Hanno percorso mediamente 281 km per arrivare a Rimini Fiera, 486.678 km in tutto, i club partecipanti a questa nuova edizione di My Special Car 2011, l'equivalente di circa una volta e mezza la distanza fra la Terra e la Luna. 194 associazioni e circa 1727 auto, di cui 109 guidate da donne, si sono ritrovate dall'1 al 3 aprile nel più grande raduno in Dord Europa, che proprio quest'anno batte tutti i record raggiunti negli anni precedenti, numerose le auto provenienti da Svizzera, Lussemburgo e Francia. Penso che condividere la passione con tanta altra gente che poi possono diventare amici è bellissima, per cui ne vale la pena, anche se è un hobby che ha un certo costo. Era una 1 semplice, 5 porte, 1000 fire e piano piano l'ho allestita tutta io, insieme a altri amici, preparatori. Una fiera quella delle macchine e del tuning, che unisce alla bellezza e particolarità delle auto in esposizione anche la qualità del suono. Proprio a Rimini va di scena infatti la finale del campionato italiano One Car, una manifestazione dedicata all'ascolto di qualità in auto e della pressione sonora. Oggi sto facendo la gara d'impianto perché ho lo schermo con la macchina del suono, tutta la lavorazione è fatta in vetro resina, con il tipo di vernice che cambia colore con la luce del sole, cambia colore la vernice, l'impianto si sente abbastanza. Quest'anno ho deciso di rifarla completamente, la vernice ho dovuto mandare un campione a Bangkok per riuscire a riavere la stessa tonalità, il resto ho tolto l'aerografia che c'era, ho fatto un'adesivatura di quelle garantite 25 anni, verniciati i cerchi, c'è un impianto stereo sound stream all'interno di semi SPL, sono tre amplificatori. Per il resto lascio giudicare alla gente. Donne e motori, giai e dolori! Visto che donne e motori sono un'accoppiata vincente, durante la manifestazione riminese, grande spazio alla bellezza con le selezioni ufficiali di Miss Italia 2011. Tutto quello che c'è è stato lavoro, tanto tempo, tanto, soldi pure. Per essere sincero ho perso il conto, alcuni addirittura mi hanno ancora fatto un po' di credito. 2.000-3.000 euro almeno, ma sono appena all'inizio. I motori delle macchine, la musica degli stereo, la curiosità della gente, la bellezza delle Miss, fanno dunque del My Special Car un appuntamento molto trafficato. 3.000-3.000 euro almeno, ma sono appena all'inizio.